Ehi, sono un pollo fritto e mi chiamo Giovanni! Cioè io ho la fortuna di fare questo lavoro che mi permette di continuare a giocare e di rimettermi in gioco emotivamente. I burattini si incrociano ma non si fermano, ora fanno su e giù. Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che... Quindi è importante alternare i giochi, sia di tipo cooperativo che competitivo. Poi nell'alternanza l'attenzione si ridesta. Per tenere la costruzione, però lasciala un attimo. Bravi. Sono gli orsi polgiosi! Senza parlare ragazzi, zitti! Finalmente sono giunti alla loro meta! Noi siamo gli stranieri, i grandi stili non puoi niente. Noi siamo gli stranieri. Soltanto io, l'olore da me e noi domandiamo asilo, asilo, noi siamo gli stranieri. E io che sono un tordellino, mi muovo un po' di qua, giro giro tondo, tondo come il mondo, tondo come il sole e come i buchi del groviera. Sono un fungo, waccia, velenoso, waccia. Siete veramente dei ballerini strafighi! Grazie! 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 Grazie a tutti